Vediamoci subito, prima di salutare il nostro interlocutore, i cartelli. Ecco qui. Prima vorrei vedere quello italiano, per cortesia della regia. Questi cartelli che vediamo in tv, perché ci sta guardando la tv alla radio come al solito, li raccontiamo. Stiamo mostrando il grafico dei decessi in Italia catalogati, diciamo, come coronavirus. Va bene? E in Italia vediamo che c'è stata, lo mettiamo a pieno schermo per favore, in Italia vediamo che c'è stata la famosa prima ondata, come la chiamiamo, che ha sfiorato i mille morti e che poi è discesa rapidamente. Ora c'è una seconda ondata che ha raggiunto e superato anche i numeri precedenti, ma che non scende. Quindi la seconda è peggio della prima. Ecco, lo vediamo e vediamo i numeri. I numeri di questa seconda sono peggio della prima, nonostante mascherine, lockdown, distruzione del paese, eccetera. Vediamo la Svezia invece, perché poi alla fine questo è quello che conta. Eccola qua. La Svezia, raccontiamo, ha avuto una prima ondata, 100 diciamo, e abbiamo una seconda ondata, 50, che però sta scendendo. Va verso la fine. Quindi meno della metà, va bene, di quello che è accaduto nella prima fase. O in Svezia la vita ha continuato a scorrere come prima, qualche piccola accortezza. Adesso non servono gli alcolici dopo una certa ora, ma quello serve anche un po' a limitare un po' un abuso probabilmente. Le scuole vengono chiuse con due settimane di anticipo rispetto a quanto le abbiamo chiuse noi, ma noi le abbiamo chiuse praticamente per sempre. Ormai la scuola, vai a vedere, non esiste più. Quindi hanno anticipato un po' le vacanze di Natale, danno delle raccomandazioni. Ma insomma, facciamocelo dire poi da chi è lì. Perché? Perché la Svezia, comunque, senza alcun tipo di vero lockdown o TSO, che dir si voglia, vive comunque una situazione, dal punto di vista numerico, eccolo qua, migliore di quella che viviamo noi con tutti i drammi che stanno accadendo in Italia. Vedete i grafici, eccoli qua. Torniamo a quello italiano, il grafico è spaventoso. Eccolo qui, quello italiano è spaventoso. E quindi questo a me interessa. Io vorrei indagare su questo e chiedere che il servizio pubblico cerchi di fare un'indagine. Se non lo fa lei, lo facciamo noi. Intanto, in Svezia, Francesco, possiamo presentare il nostro amico. Riccardo Palleschi, che riascoltiamo, blogger del portale italianiemigrati.com e della pagina Facebook Italiani nel Mondo, che è, se non sbaglio, a Stoccolma in questo momento. In questo momento è a Stoccolma e siamo collegati con lui. Ciao Riccardo. Eccoci qui, ciao, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, ma stai passeggiando per le vie di Stoccolma? Eh sì, sono un eretico, vedete? Come un eretico? Un eretico italiano in vacanza. Senti, ma stai passeggiando per le vie di Stoccolma? Vedo gente intorno a te, tu sei senza bavagli, senza museruoli. Non c'è nessuno con le museruole lì, mi sembra di capire. Eh già, cioè diciamo che chi legge i giornali italiani se la mette. Ma solo loro, siamo all'1%, l'1% diciamo delle persone qui indossano l'1%, sono quelli che leggono diciamo la stampa internazionale, perché tutte le persone che credono diciamo alla linea governativa, quella del governo non la indossano. Ok, quindi noi stiamo vedendo, perché alle tue spalle vediamo le strade del centro di Stoccolma, persone che camminano, chiaramente oggi è lunedì mattina, ecco tu adesso hai girato la camera, ecco questa è la tua camera girata, stiamo vedendo, cioè nessuno indossa la mascherina sostanzialmente, poi c'è una normale vita, ma neanche all'interno dei negozi, quindi neanche all'interno dei locali, ecco stiamo vedendo le persone che entrano nei locali, ecco, ah sta entrando anche te, ecco, gira la camera verso di te, così magari così magari facciamo capire alla gente che ecco, che è vero quello che sta, che quello non è un filmato di repertorio, che siamo in diretta. Ecco, guarda, anche qui dietro di me c'è l'ingresso di questo negozio, sono riuscito a vedere bene, ecco, ecco, non ci sono nemmeno qualcuno che ti punta la pistola del termometro in testa per misurare la temperatura, non c'è nessuno che ti obbliga a lavarti, a metterti quell'alcol sulle mani, disinfettanti e cose varie. Soprattutto nella maggior parte anche dei negozi non c'è nemmeno nessun cartello di terrore su questo virus. Guarda, voglio proprio far vedere qui davanti a me c'è Zara, quindi è una categoria internazionale, eccola qui, ecco questa è Zara, c'è la signora che passa ovviamente. L'ingresso è libero, non ci sono, vedete, non c'è nessun cartello all'ingresso, si può entrare tra... adesso ovviamente è lunedì mattina, le persone sono al lavoro. Eh vedi, sta uscendo una persona, due persone stanno uscendo, due ragazze, eccole qua, senza maschera giustamente, neanche dentro. Sì sì sì, ecco le persone che entrano normalmente, ecco. Questo sta accadendo in diretta, attenzione, oggi è lunedì 14 dicembre 2020, ecco, questo è quello che stiamo vedendo in diretta, guarda ogni tanto girati la camera perché sennò la gente pensa che questi siano filmati dello scorso anno. Però questo lo sapevamo che in Svezia non c'è la mascherina, non è una novità, no? Questa è una cosa che si sapeva, insomma. Credo che ci sia anche qualche altro dato, no Riccardo, da raccontare rispetto a questo viaggio a Stoccolma. In questi giorni sono stato molto in giro per tutti, diciamo, i posti clou di questa capitale europea che vorrei ricordare è una, è la quinta per densità di popolazione in tutta Europa, quindi non è vero il fatto che si dice che in Svezia le persone sono una a 100 metri dall'altra. Stoccolma è una città molto popolata e densamente popolata. Quindi io in questi giorni sono fatto dei giri in metropolitana, ho fatto dei giri anche all'ospedale. Sono stato all'ospedale di Stoccolma, al famoso Carolisca, e sono stato poi anche a quell'altro, non mi ricordo adesso il nome. Comunque sono i due più grandi di Stoccolma ed in entrambi i casi la situazione non è affatto come quella che viene raccontata. Ecco, racconta un po'. Ovviamente non posso entrare all'interno dove sono i malati, nelle sale di degenza dei pazienti. È ovvio che non si può fare una cosa del genere, non si può entrare nelle terapie intensive, però quello che ho potuto fare da turista, quindi da persona che non ha nemmeno nessun parente ricoverato lì dentro, è stato quello di camminare nei corridoi dell'ospedale, entrare anche dove sta la sala d'aspetto, filmare da fuori la sala d'aspetto del pronto soccorso e far vedere che è vuoto. Cioè sostanzialmente non c'era assolutamente nessuno, neanche al pronto soccorso, non c'era neanche una persona che si è fatta male alla gamba, nemmeno quella c'era. Ma scusami, allora qual è questa storia? Ma allora questa storia del 99% che i medici che si dimettono, leggevamo stamattina su alcuni di queste trombe del potere che ci dicono che si stanno dimettendo i medici, che sta succedendo un'ira di Dio, no aspetta, che la gente ha paura, che non c'è nessuno, che la gente ormai, che il fallimento dell'esperienza svesse, a me sembra che lì c'è la vita che scorre normalmente, vedo che tu sei anche con un paio di tuoi amici che sono lì con te, quindi hanno paura, non credo che abbiano paura neanche loro, no? Li vedo passeggiare insieme a te. Abbiamo con me Nicola, lui abita qui, proprio a Stoccolma, è un italiano che abita qui a Stoccolma e che sicuramente vi può confermare quello che vi ho detto io. Ah, non so se ci sente Nicola, Nicola? Sì, mi sento, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola. Nicola, ma tu hai paura di vivere in questo paese così dove i morti per la strada? No, io scherzo ovviamente, hai paura? Assolutamente no. Libri di fantasy, la cronaca italiana sulla Spezia, sono racconti di fantascienza. Ecco, ma Nicola, tu vivi lì, quindi voglio dire, lì la vita si fa normalmente come si faceva qui lo scorso anno, cioè, si vive, le persone hanno paura, tu hai paura, le persone hanno paura? Assolutamente no, è tutto libero, come Riccardo ha potuto mostrare nei suoi video, c'è molta gente che fa smart working e quindi magari in pausa pranzo c'è meno gente in giro rispetto a qualche mese fa, però la città fa la sua vita normale, come avete visto non ci sono plexiglass in giro, le carine sono veramente percentuali irrisorie, utilizzatevi, dispiace dirlo, soprattutto dai migrati e quindi la vita scorre normalmente come Riccardo ha avuto modo di mostrare. Esatto. È incredibile, è incredibile questa cosa, perché noi guardando le immagini che ci state mandando in diretta da Stoccolma, ecco vedo mezzi pubblici, persone che camminano, fanno esperienze, ecco adesso ha girato la camera, non abbiamo un ottimo... Riccardo casomai se riesci magari a mettere un auricolare forse è meglio, perché se no abbiamo questo... non ce l'hai, vabbè, mi dico la da regia che non c'è, vabbè, non fa niente, perché abbiamo una sorta di mooting che ogni tanto si attiva, ma lo sopportiamo volentieri, ecco sei di fronte a un negozio abbigliamento, mi sembra di capire. Allora, guardate, volevo farvi vedere proprio questa cosa, qui davanti abbiamo i vestiti per essere provati, quindi la gente può venire qui in realtà a toccarli, che con le misure anti-covid sarebbe impensabile in Italia. Che è quello che è sempre successo anche qui da noi, voglio dire, noi si va nelle boutique, si prende il vestito, si prova, si indossa, poi si rimette lì, è successo per migliaia di anni, non è mai morto nessuno. Per migliaia di anni adesso stai esagerando. No, come no? Vabbè, voglio dire, succedeva anche in anni adesso, l'abito lo prendi, lo provi, lo riposi, anzi, una volta c'era maggiore promiscuità. La strada, quindi in realtà si fidano anche soprattutto delle persone che ci sono, perché io da qui potrei passare, prendere la maglia e via, è anche un paese civile, questo è anche importante da dire questo. Quel 149, scusami, scusami, quel 149 sono corone immagino, non sono euro. Puoi fare diviso 10 per trovare il prezzo in euro, quindi sono 14,90 euro. Esatto, perché ricordiamo che la Svezia, anche se fa parte della comunità europea, ha la sua moneta, cioè ci sarà un motivo per cui... Cioè, scusate, vabbè, poi ne parliamo con calma quando abbiamo un collegamento magari migliore, ecco, perché mi sembra che Nicola, che poi vive lì, vive lì, quindi sa bene come funzionano le cose, Nicola, no? Cioè, voglio dire, anche questo fatto della moneta ancora sovrana ha aiutato la Svezia a risolvere i problemi, diciamo, aiutando la medicina territoriale? Beh, guarda, questa è una domanda molto tecnica, comunque ti posso assicurare che qui è tutto molto efficiente, ho avuto la sfortuna un paio di settimane fa di dover utilizzare un servizio al pronto soccorso ed era di una pulizia incredibile, in zona Otoriet, qui vicino dove siamo, e sono rimasto veramente colpito dal fatto che era pulitissimo, ben organizzato e c'erano veramente pochissimi ospiti lì in pronto soccorso. Ecco, Nicola, scusami, ma quando tu sei andato al pronto soccorso ti hanno fatto il test Covid, ti hanno tenuto fuori un'ora, hanno aspettato il risultato del test, oppure tu sei arrivato in pronto soccorso per un'emergenza e quindi ti hanno subito poi preso, ecco. Hai ragione, non mi hanno fatto nessun test, l'unica cosa, devo essere sincero, prima di farmi entrare nella sala visita mi è stata misurata la temperatura, che qui la fanno nell'orecchio anziché con la pistola che ti sparano in te, però prima di accedere privata, nella stanza col medico. Ah, ok, quindi non all'incorso. Sì, scusami, quando noi poi parliamo sopra tu vieni bloccato, se puoi ripetere, perché purtroppo abbiamo questo problema del muting senza le cuffiettine e c'è il problema del muting con il collegamento. Allora, dicevi, non ti hanno fatto tamponi, ti hanno fatto nulla, soltanto la temperatura all'interno di una stanza col medico, ho capito bene? Sì, quindi è stata misurata la temperatura solo all'accesso della sala visita, non all'ingresso del pronto soccorso, che è libero, non ci sono mascherine, il personale sanitario non aveva mascherina e non fa indossare mascherina ai pazienti. Ah, ecco. Solo all'ingresso c'è stata la misurazione della temperatura nell'orecchio, poi. Qui si fa così lo scoperto da poco. Anche per un motivo di educazione, ovviamente, perché sai, puntare una pistola in testa che sembra una cosa, a parte il gesto che è brutto, e poi comunque ci sono anche delle implicazioni delle quali poi parleremo. Però, quindi, tu dicevi, il pronto soccorso si entra liberamente, ma neanche i medici portano le mascherine all'interno degli ospedali? Per lo meno nel pronto soccorso che ho utilizzato io qui vicino a Dottoriet, no. Quindi seguono quelli che sono gli studi che poi domani presenteremo, tutti gli studi scientifici, dal 1950 al 2020, che dicono che anche all'interno degli ospedali non è conveniente e che può essere dannoso. Vabbè, insomma, voglio dire, quindi tu, Nicola, noti lì, in città, una vita che continua normalmente come quella che c'era prima, se non con qualche, ovviamente, qualche attenzione in più, qualche lucina accesa che ci dice, beh, fate una maggiore attenzione, immagino che queste siano le raccomandazioni del Governo. Esatto. Poi soprattutto, come hai avuto modo di dire tu, si tratta di raccomandazioni, quindi qui le cose imposte sono veramente poche, che forse l'unica è quella della vendita dell'alcol fino alle 22. Per il resto si tratta di raccomandazioni che la popolazione tende a rispettare, quindi magari si cerca di non affollarsi troppo, ma comunque tutto scorre normalmente, come l'anno scorso. Beh, Nicola, noi ti romperemo le scatole, ti chiameremo ogni tanto, come Riccardo, che ogni tanto viene su a trovarti, ma verremo anche noi, verremo anche noi. Guarda, anche col prof. Michetti lo dicevamo stamattina. Sì. Eh, Enrico, vuoi fare qualche domanda a Riccardo e a Nicola che sono lì e a Stoccolma? No, rimango stupito dalla loro normalità, che per noi qui a Roma è un miraggio, per cui vedo due visi sorridenti, due visi, voglio dire che non mi sembrano assolutamente mortificati da queste epidemie, che voi li lanciate al paese. Che dicevi, scusami, che dicevi Riccardo? Abbiamo questo problema di muting, attendiamo magari mezzo secondo. Riccardo, cosa stavi dicendo? Dico, invece ci è tornato il sorriso da quando siamo qui, soprattutto siamo tornati a essere felici da passeggiando per questo colma. Beh, è straordinario. Eh, guarda, allora, abbiamo ancora qualche minuto, Riccardo e Nicola, continuate a passeggiare, fateci vedere ancora, ecco, perché ci sta ascoltando alla radio, noi glielo raccontiamo, ma in tv chi vuole ci vede, poi questo è un video che verrà riproposto anche sui nostri canali social, YouTube e compagnia Cantando, ecco, fateci vedere, dacci un po' di speranza con queste immagini, fateci vedere che un mondo esiste ancora, che il mondo vero esiste che là non sta morendo la gente per la strada. Fateci vedere che esiste una città che ancora ci può dare una speranza, un qualcosa sulla quale interrogarci. Stoccolma, l'abbiamo detto prima, è una città che ha una densità abitativa enorme, le persone si incontrano, si baciano, si abbracciano, stanno vicini, ecco, non ci sono bavagli, mascherine, museruole, non c'è nulla, neanche all'interno. La cosa più importante è che è proprio il simbolo, il fatto di non indossare la mascherina all'interno degli ospedali vuol dire tanto questo, quindi vuol dire che il personale sanitario e la scienza svedese non le considera affatto utili per contrastare le infezioni del Covid. Questa è una cosa molto importante perché le persone, va bene, possono essere influenzati dai media, dai media internazionali, da quello che leggono o quello che vedono in televisione, ma i medici, se non lo fanno nemmeno i medici qui, questo vuol dire tanto questa cosa ovviamente. Certo, certo, ma guarda noi stiamo facendo con te una passeggiata nel centro di Stoccolma insieme a te, ecco e ti devo dire che ci torna il sorriso a vedere, ecco la signora adesso, anche anziana che è passata con il carrello della spesa, ovviamente senza bavagli, ecco, tutti stiamo vedendo, è Enrico, ci stiamo facendo una passeggiata di salute, posso fare una domanda? Ma certo, ma certo, ecco, voi che siete lì, ma come vedono, voglio dire, gli svedesi il resto del mondo totalmente blindato, totalmente protetto, totalmente, anzi eccessivamente, dove le libertà fondamentali sono state perimetrate, come vedono gli svedesi quello che sta accadendo nel mondo? Beh, allora, io ne ho parlato con qualcuno di svedese, ovviamente le persone veglie o comunque che hanno capito un po' che c'è qualcosa che non torna in questo 2020 nel mondo, hanno certo, hanno capito, hanno detto ma in Italia come fate a vivere in questa maniera, non se ne capacitano. Poi ci sono altri invece che nonostante non indossano mascherine, comunque si affogliano perché magari vanno lo stesso nei negozi, centri commerciali a comprare, però ti dicono sì, però è giusto magari il vaccino, ad esempio. Quindi c'è un modo di pensare variegato, non è che tutti la pensano nello stesso modo, però tra una differenza di pensiero tra le persone la linea comune è la libertà, è quello anche il motivo del mio viaggio qui. Nessuno qui ti impone qualcosa, nessuno qui ti guarda male se fai qualcosa di diverso. Cioè c'è un dibattito ma rimane la libertà, il dibattito c'è ma rimane la libertà e nessuno ha paura perché non è terrorizzato dalla stampa quotidianamente. Esatto, esatto. E questa è la vera differenza, almeno per me, tra il popolo italiano, il popolo spagnolo, i popoli del sud d'Europa secondo me e i popoli del nord d'Europa. Perché in realtà si parla molto di Svezia. La Svezia certo è quello più libero in assoluto, però questa situazione che stiamo vedendo adesso qui non sta solo qui, c'è anche in Finlandia in realtà e c'è anche in Norvegia. C'è anche lì, io conosco delle persone perché con la mia pagina italiana e il mondo conosco persone che abitano anche lì. L'unica differenza con la Svezia è che le frontiere lì hanno dei controlli rispetto alla Svezia. Le frontiere per esempio in Svezia sono completamente aperte, non c'è neanche nessuna misurazione di temperatura all'aeroporto, non ti chiedono certificazioni, autocertificazioni, neanche ovviamente nessun tampone negativo. Quindi in realtà in Svezia può arrivare chiunque, anche in realtà persone che possono essere potenzialmente positive e possono venire a infettare loro. Tu sei arrivato, nessuno ti ha controllato se avevi tamponi, cose, nulla, sei arrivato e sei uscito all'aeroporto, fine. Esatto, nulla, lo Stato svedese non chiede nessun documento per poter entrare in Svezia. Quindi chiunque può andare. Quindi non è soltanto che in Svezia non ci sia questo... Parlo dai paesi europei. Dai paesi europei, vabbè. Ok. Quindi questa storia che in Svezia, Francesco, Enrico, non ci sia questo disastro sanitario acquisisce un maggiore valore. Perché la Svezia è anche con le frontiere totalmente aperte. Quindi chiunque può andare. Ma può andare anche una persona infettata. Senza che nessuno se ne accorga. Quindi in realtà la Svezia ci pone una domanda di carattere tecnico-scientifico. E questo è il punto. È inutile che ci vengono a raccontare la storia, ma la Svezia è diversa. No, non è diversa. Mi sembra di vedere una città normale, Riccardo. Ecco, poi... Assolutamente. Guardate. Adesso c'è il dito davanti alla camera. Hai il dito davanti alla camera. Ecco, ok, perfetto. Vai. Pronti a questo negozio. Ok, vedete, io posso entrare tranquillamente. Non c'è nessun cartello. Questi sono il cartello dell'orario del negozio. Sì, certo. Il cartello dell'orario del negozio. Sì. Dice che è aperto dalle 11 alle 18. Ma dalle 11 alle 18 è aperto. Beh, è orario continuato. Orario comodo, però. Ecco, dalle 11 alle 18, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, fino al 20 dicembre. Lavorano di più nel weekend. Lavorano di più nel weekend. Venerdì, sabato, domenica. Almeno in quel weekend. Alle 24, scusa, fammi un po' vedere sotto. No, no, alle 20, le 20. Alle 20, le 20, scusami. Alle 20, le 20. Era scritto fino alle 20. Beh, vabbè, insomma, lavorano anche lì in Svezia, insomma, questi ragazzi. Certo, lavorano, però aprono anche tardi perché qui ovviamente la luce è molta meno rispetto ai paesi più d'Europa, quindi anche hanno orari diversi per... Dura di più, però, dura di più. Senti, siamo alle battute finali. Sì, insomma, Riccardo, ma tu tornerai praticamente via dalla Svezia in serata, quello che mi hai detto, ma noi torneremo, magari torneremo insieme, magari col prof. Michetti. Come no, volentieri. Ecco, poi ci sentiamo con Nicola anche che lì, magari poi Nicola lascerà il suo numero qui alla redazione perché magari lo sentiremo. Riccardo, facci così, in chiusura, facci un sunto della tua esperienza di questi tre, quattro giorni che sei stato lì a Stoccolma. Allora, volete che vi faccio vedere mentre parlo? Sì, sì, vai, vai, facci vedere, dacci ancora questa gioia di vedere le strade con persone libere, libere. Prego. Esatto, allora, io da quando sono arrivato, subito, dal momento in cui l'aereo è atterrato a Stoccolma, già il personale dell'aeroporto che lavorava lì sulla pista d'atterraggio, già lì ti faceva capire tutto, cioè non portavano le mascherine. Cioè il personale all'interno dell'aeroporto che lavorava sulla pista d'atterraggio non portava le mascherine. Mentre l'unico posto dove in tutta la Svezia si portano le mascherine è all'interno, nella zona internazionale dell'aeroporto. L'unico posto. E lo fanno magari per adeguarsi agli altri paesi europei per evitare che poi possano essere tacciati in qualche modo, certo. Esatto, esatto. Adesso vedete, adesso dovremmo incrociare i poliziotti qui davanti a me. Certo. Guardate, queste persone che sono in divisa sono poliziotti. Sono poliziotti, certo, certo. E anche loro ovviamente non hanno la mascherina. Eccole qua, sì, sì. Abbiamo visto, abbiamo incrociato la polizia senza mascherina giustamente, ma è anche piacevole incontrare la polizia che passeggia insieme ai cittadini per le strade di una città ed è un senso di sicurezza, no? Mentre invece qui da noi, se la vediamo, scappiamo perché dice che cavolo ho fatto di male, no? Eh, vabbè. Esatto. Vabbè, vabbè. Chi è capitato che c'è sempre loro poliziotti con persone con i cani. Qui sono molto pet friendly, quindi i cani li portano anche all'interno dei negozi, nei bar, nei supermercati, centri commerciali, senza problemi. E qua ho visto dei poliziotti avvicinarsi a queste persone con i cani. Da noi magari si sarebbero avvicinati per fargli una multa di qualche modo. Invece lì si sono messi a giocare con i cani i poliziotti. Ecco appunto. E quindi a carezzarli, eccetera. Quindi è proprio un aspetto, secondo me, molto più rilassato. Qui la polizia realmente è vicino alle persone e non le intimorisce. Certo, certo. Quindi si sentono parte di questo popolo e si sentono soprattutto parte di questo destino comune, probabilmente, ma è anche condiviso, secondo me, nelle popolazioni del nord Europa. Questo tipo di atteggiamento. Senti Riccardo, dobbiamo... Sì, dici, dici. È un ingresso a una galleria? Sì. Ecco. Speriamo che prende là dentro. Speriamo che prende ancora... Vedo che c'è una linea un po' traballante, però no, no. Se vuoi entrare vediamo se funziona. Poi ci salutiamo perché è tardissimo. Prego. Sì, forse fuori è meglio. Riccardo, senti, allora, gira la telecamera verso di te, verso Nicola, verso i tuoi amici che sono con te, così ci salutiamo e poi facciamo fare un commento veloce a Derrico. Non ve li ho presentati, sono i miei amici della passeggiata qui, della Libertà. L'ho chiamata passeggiata della Libertà a Stoccolma. Eh, sì, è vero. Vorremmo essere lì. E vorremmo essere lì. E salutiamo, vi salutiamo tutti. Continuate la vostra passeggiata della Libertà, ragazzi. Grazie a tutti per il vostro contributo. Grazie. Buona giornata. Buona giornata a tutti voi. Grazie. Grazie. Grazie, Riccardo. Grazie. Ciao, alla prossima, Riccardo, alla prossima. Enrico, cosa dire? Ma guarda, proprio brevemente. Brevemente, un commento finale. Se soltanto noi pensiamo di dover trascorrere un Natale contingentati, lontani dagli affetti, senza possibilità di ricongiungersi con, molto spesso, con le persone care soltanto perché abitano in un comune un pochino distante da noi. Ti rendi conto che un Paese che ha adottato una politica totalmente diversa, ha ottenuto risultati migliori e soprattutto non ha prevaricato le libertà. E questo ti lascia tanti dubbi. Io non sono un esperto in materia sanitaria, per cui non posso, però mi lascia dei dubbi enormi. Ma anche sulla gestione sanitaria del paziente mi lascia dei dubbi enormi. perché se, voglio dire, fossero stati adottati quei rimedi tradizionali con cui si curano queste malattie, visto che non si dà voce ai medici di base che hanno continuato a sottostrare... Gliela diamo noi Enrico, scusami se ti interrompo, gliela diamo noi perché magari domani ne avremo anche un altro di questi medici da Bergamo che dicono, noi abbiamo curato con la cura tradizionale e non abbiamo decessi. Cioè i medici che non hanno seguito i protocolli ministeriali stanno venendo fuori e sono quelli che non hanno avuto decessi, ma questo non sono chiacchiere. Loro hanno le cartelle di tutti i loro assistiti. È tutto facilmente dimostrabile. Dai, dobbiamo chiudere però, signori. Sì, sì, no, chiuderemo. Domani torniamo, perché abbiamo una rubrica adesso, dobbiamo chiudere. Sì, sì, ne parliamo domani, ne parliamo domani. 15 secondi, Fabio, Francesco, per dire che noi dobbiamo uscire da un pensiero omologato. Noi siamo pressati da organismi internazionali, da una stampa, voglio dire, che è in qualche misura legata a delle lobby potentissime. Ecco, noi dovremmo riuscire a partorire un pensiero diverso, il nostro, che si accresce e si approvvigiona quotidianamente attraverso una buona scuola, una buona università e soprattutto attraverso la possibilità che liberamente si possa scegliere un percorso. Non credo che il virus abbia a cuore l'Italia e gli stia antipatica alla Svezia o quei paesi, noi parliamo della Svezia, ma anche in Russia, in Bielorussia, in Ungheria, in altri paesi, la situazione non è così drammatica e non crediamo, sono paesi popolosi, sono paesi che hanno una densità enorme, addirittura Stoccolma ce l'ha enormemente più grande di qualsiasi città italiana, quindi io non credo, noi non crediamo che, noi non siamo medici, ma è chiaro che se un virus è contagioso è contagioso per tutta la popolazione, non credo che esistano etnie, razze che sono esenti o sono immuni. E poi soprattutto se ci sono delle razze o delle etnie immuni, beh, gli italiani che stanno là allora non sono immuni, eppure mi sembra che stanno bene, non hanno paura e vivono. Quindi questa comunque, Enrico, è una domanda che ci dobbiamo fare, dobbiamo approfondire, perché è l'argomento principale. Assolutamente sì. L'informazione pubblica ci vuole infilare un ago in vena, prendere per il collo, farci passare l'idea che c'è un disastro, addirittura c'è Crisantemi, là Crisanti come si chiama, che parla di terze, quarte, quinte, decime ondate, dovremmo morire tutti dopo domani, mentre lì si vive una vita normalissima, nessuno è impaurito. Qualcosa di strano ci sarà o no? Beh, noi dobbiamo comunque occuparcene.